Siamo tutti, siamo tutti, cittadini, cittadini! Torniamo in studio con il nostro Cittadini Viva Sant'Agata, adesso siamo in compagnia di un personaggio sportivo che non ha bisogno di nessuna presentazione, lei è Giusy Malato. Ciao, ciao a tutti. Allora Giusy, intanto ci puoi dire come una sportiva vive la festa di Sant'Agata? Una sportiva come me, con l'appartenenza che mi lega a questa terra, alle sue tradizioni religiose e folcloristiche, quindi per me, che tra l'altro io sono devota senza sacco alla Santa, per me è una grande emozione, ogni volta che la rivedo le lacrime mi scendono copiose. Ecco, qual è il tuo rapporto con la fede, Giusy? Allora, è un rapporto un po', diciamo, contraddittorio, perché io credo, sono una cattolica, posso dire anche che sono una cattolica praticante, però ci sono alcune cose convenzionali che non condivido. Invece il mio rapporto con la Santa è un rapporto intenso, intimo, d'affetto, di scambi di confidenze, insomma io ho un rapporto molto intimo con la Santa. Nella tua intimità hai mai affidato le tue paure a Sant'Agata? Assolutamente sì, assolutamente sì. Una in particolare durante la mia prima gravidanza, alla quale ho chiesto che tutto si potesse risolvere nel migliore dei modi e devo dire che sono stata accontentata e per questo per me c'è questo rapporto intimo. Tra l'altro, i miei figli sono tutti e due con il sacco, appunto per questo motivo. Giusy, ci puoi dire che ricordo conservi della festa di Sant'Agata, soprattutto quando tu eri piccola? Allora, io quello che ricordo sono gli odori, perché mia mamma e mio papà mi portavano a vedere la festa di Sant'Agata a partire dalla carrozza del Senato, quindi dalla piazza Iolanda, quindi mi ricordo gli odori, mi ricordo il signore con la caravella che ruba, mi ricordo i rumori e le grida dei devoti nei confronti della Santa. Devo dire che negli anni questa tradizione in me si è rafforzata e intensificata, perché avendo delle compagne di squadra straniere, o comunque che non venivano italiane, ma che non venivano da Catania, le portavamo spesso e quasi sempre, se era possibile, a vedere la festa di Sant'Agata per cercare di trasmettere la nostra appartenenza a questa terra. La Santa non ha mai, diciamo, questa festa è la Santa, nello specifico, non ha mai disatteso le nostre intenzioni e loro sono tornate spesse volte durante la festa di Sant'Agata, anche se non giocavano qui con noi a Catania, appunto perché sono rimaste legate a questi tre giorni veramente intensi. Ecco, adesso la festa è in stand-by a causa della pandemia da Covid-19. Tu ritieni corrette le decisioni che sono state prese? Assolutamente sì, da persona civile assolutamente sì, perché comunque in questo momento particolare della nostra società è sicuramente difficile prendere una decisione del genere, però secondo me era dovuta e doverosa. Dovremmo noi cittadini e noi devoti capire le motivazioni e cercare di accettarle. Io lo capisco che non è facile per un devoto che porta 100 kg di cera sulle spalle accettare una cosa del genere, però ci saranno tempi migliori, ne sono certa, e la Santa, Sant'Agata va pensata e pregata tutti i giorni. Come immagini la festa di Sant'Agata in futuro? Come era prima, con il folklore, con la confusione, l'odore delle caramelle, del torrone, i devoti che cantano la cera per terra, tutto quello che noi abbiamo vissuto in questi anni spero di poterla fare vivere ai miei figli, perché è una festa così intensa, così bella, così coinvolgente coinvolgente che sarebbe un peccato non ripeterla. Giusy, una curiosità, quando sei entrata in tu, come dire, i tuoi successi sportivi sono innumerevoli, li conosciamo benissimo, però quello che ti voglio chiedere, ti è mai capitato di affrontare una sfida sportiva e dire qui non ce la faccio, necessito dell'aiuto di Sant'Agata? No, no, questo no, mi sono affidata a Sant'Agata per cose molto più importanti che una partita o un gesto sportivo, mi sono affidata a Sant'Agata per la salute dei miei figli e la mia salute dei miei cari, quindi no, quando si parla di sport penso che ognuno di noi debba far conto sulle proprie forze, tirare in ballo la Santa mi sembra anche quasi un po' blasfemo. E non hai neppure mai ringraziato Sant'Agata per un traguardo raggiunto? Ma guarda, io la devozione che ho nei confronti della nostra Santa è, ti ripeto, quasi quotidiana. Tutte le sere io faccio una preghiera, una delle quali è rivolta a lei, per tutto quello che mi ha concesso la vita, per le fortune che ho avuto dal punto di vista sportivo, per i miei figli, per la salute, per mia madre, per mio padre, per tutte quelle persone che mi vogliono bene e che mi circondano. Quindi, diciamo, il rapporto è quasi quotidiano con Sant'Agata. Giuseppe, prima hai fatto riferimento ai tuoi figli, da madre come stai trasmettendo i valori della festa di Sant'Agata ma soprattutto l'attaccamento alla Santa, oltre alla vestizione del sacco. Ma sai, adesso è un po' complicato a trasmettere questi valori, perché se tu la cosa non la vivi, soprattutto per ragazzi come loro che sono piccoli e ancora non hanno ben chiaro qual è il concetto di Sant'Agata, è complicato farglielo vivere in maniera più concreta. È chiaro che quando c'era la Santa per strada, loro la vedevano, noi andavamo, andavano nel cordone, cercavamo di rispettare quanto più possibile le regole del buon devoto. Adesso è un po' più complicato, adesso toccherà a noi genitori tramandare quello che noi abbiamo vissuto in questi anni, sperando sempre che il prossimo anno si ritorni alla normalità. Da parte loro ti hanno fatto mai delle domande sulla festa di Sant'Agata e sul tuo rapporto con Sant'Agata? Sì, sì, loro lo sanno perché hanno il sacco. Io non posso imporre, soprattutto a dei ragazzi che oramai cominciano a essere grandi, perché mio figlio, il grande ha quasi 14 anni, il piccolo ne ha 9,5, quindi coscienti e capiscono. Devo motivare il fatto per il quale loro hanno il sacco e loro lo sanno benissimo. Lo sanno benissimo. E tu cosa hai risposto allora, se posso chiederlo? Assolutamente, ho detto allora per il grande e anche per il piccolo. Il sacco è un atto non solo di devozione ma di ringraziamento, perché io ho chiesto alla Santa una grazia per il grande che puntualmente non ha disatteso. Per cui lui sa che cosa è successo durante la gravidanza, lo sa anche il piccolo e sa la motivazione per cui loro indossano il sacco. E devo dire che lo hanno accettato di buon grado e hanno capito perfettamente le mie motivazioni e la mia devozione, per cui è stata trasmessa da madre in figlio. Giussi, lo sai benissimo, fino a pochi anni fa, ovviamente lo ripetiamo, la pandemia ha bloccato tutto, ma fino a pochi anni fa si era creato anche un connubio, Festa di Sant'Agata e Sport. Tu come hai accolto da sportiva iniziative simili? Non solo che bene, perché è vero che la Santa è religiosa, ma è anche vero che alla Festa di Sant'Agata appartengono anche tante manifestazioni folcloristiche, laiche, che hanno caratterizzato fino a un paio di anni fa, i tre, quattro giorni, la settimana di Sant'Agata. Vedi la maratona, quindi di buon grado assolutamente, anche perché è una nostra tradizione e quindi come tale deve essere mantenuta e deve essere portata avanti. In conclusione ti chiedo il tuo messaggio da sportiva a tutta la comunità sportiva catanese per questa festa di Sant'Agata, ma soprattutto ti chiedo il tuo messaggio da allenatrice, quindi da educatrice allo sport, nei confronti dei più piccoli, di chi si avvicina appunto a praticare sport e come appunto da sportivi anche poter incardinare quelli che sono i valori rappresentati da Agata. Allora, prima di tutto mi vorrei rifare all'appartenenza alla nostra città perché così come il Catania, così come l'Etna, così come Sant'Agata sono tutte impressioni bellissime della nostra città e quindi dei colori rossi-azzurri, dell'elefante e di noi catanesi. Scusami. Per quanto riguarda invece la parte educativa, vi dico che io tutti i giorni trasmetto l'appartenenza a questo territorio, al rispetto delle regole, al rispetto dei valori, scusatemi, sono un po' raffreddata, al rispetto dei valori e quindi come educatrice diciamo che il mio compito fondamentale sta anche a tramandare quello che io ho vissuto negli anni precedenti e quello che io ho vissuto negli anni precedenti è anche la festa di Sant'Agata e la devozione ad Agata. Quindi questo è il mio messaggio e anzi un altro messaggio importante e lo dico con tutto il cuore e a cuore veramente aperto, di comprendere le decisioni che in questo momento sono state prese nei riguardi della festa di Sant'Agata per noi devoti, che sicuramente sono dolorose, assolutamente sì, che sicuramente ci portano un po' più lontano dalla nostra Agata ma è vero pure che se io credo in Agata, se io credo nella fede, so che ce l'ho vicina e quindi non è necessario in questo momento storico della nostra vita starle vicino fisicamente, stiamole vicino moralmente con una preghiera in più, con un atto di bontà in più, con un atto di carità in più in modo che lei ci senta. Bellissimo messaggio Giusy, la fede va oltre le apparenze. Grazie, grazie ancora per essere stata con noi. Ringraziamo Giusy Malato, ci fermiamo adesso ma torniamo subito dopo. Cittadini, viva Sant'Agata! Siamo tutti, siamo tutti! Cittadini, cittadini!